I am using my religion qualche consiglio di lettura da questo 2021 allora per questa prima tornata di libri ne ho scelti cinque anche se in realtà due possono essere inseriti nella nello stesso spazio si tratta partiamo proprio da questi si tratta dei primi due numeri della rivista cose spiegate bene nata dalla collaborazione tra il post e iperborea è una rivista che in realtà è un libro di base ne sono usciti due numeri il primo numero si intitola a proposito di libri come nascono e diventano questi oggetti di carta dove leggiamo storie idee e mondi interi e la seconda invece si intitola questioni di un certo genere le identità sessuali diritti le parole da usare una guida per saperne di più e parlarne meglio allora questo esperimento del post con iperborea è veramente una delle cose più belle viste in questo 2021 e sto cercando se il primo si è uscito nel 2020 no però al 2021 già ne abbiamo parlato con i protagonisti con insomma persone che lavorano iperborea persone che lavorano al post e persone che hanno contribuito e scritto all'interno di questi numeri sono veramente delle guide utilissime per approfondire questi due argomenti quello dell'editoria e quello delle questioni di genere due argomenti di cui si parla tanto ma spesso si sa poco e con diciamo il piglio del post che insomma è una delle al momento credo una delle testate per quanto mi riguarda più attendibili anche più che approfondiscono e che spiegano appunto le cose e quindi sono dei delle raccolte praticamente di contributi sia redazionali quindi proprio con delle spiegazioni rispetto ad alcuni argomenti del tema generale trattato e poi ci sono anche invece dei contributi da persone che raccontano le proprie esperienze e l'ho trovato veramente molto molto bello li trovate in libreria anche se appunto è strano parlare di riviste ma riviste in senso diciamo ampio e sono appunto cose spiegate bene i primi due numeri poi abbiamo come altro consiglio una riedizione una ripubblicazione di un libro che ho amato tantissimo che è il ministero della bellezza di marco lazzarotto finalmente è stato ripubblicato anche un po rimaneggiato dall'autore da las vegas edizioni libro pazzesco con un'idea pazzesca di fondo il protagonista è uno scrittore che matteo labbrozzo un giovane scrittore che si ritrova a vivere in un mondo in cui governa la callistocrazia cioè il governo dei più belli praticamente la bellezza è diventato l'unico criterio possibile di controllo diciamo della popolazione e questo scrittore che non è particolarmente bello si trova la sua vita appunto stravolta proprio da questo l'editore rifiuta il suo nuovo romanzo si incrina il rapporto con la sua compagna e la sua città e piano piano il mondo iniziano a muoversi proprio solo ed esclusivamente nella direzione della ricerca di questa bellezza un libro profetico da molti punti di vista che è stato appunto ripubblicato e di cui parlai quando uscì la prima edizione parecchi anni fa ormai 2013 2014 una cosa del genere e quindi sono molto contenta che sia stato ripubblicato il ministro della bellezza marco lazzarotto las vegas edizioni proseguiamo con un agile libello che in realtà è un gioco si tratta di biblioversum ne abbiamo parlato anche qui in radio di marcello bertocchi pubblicato da supernova studio supernova che è praticamente una sorta di gioco di ruolo nel quale però si utilizzano i libri quindi si può giocare in insomma in più di in più giocatori ma si usa come base per muoversi nel proprio universo che in questo caso è il biblioversum si usa un libro quindi bisogna avere un ognuno ha un libro ci si basa su un libro comune per per scegliere l'universo però poi ognuno ha dei propri libri che utilizza proprio per determinare le azioni del suo personaggio molto divertente più facile a giocarsi che a dirsi perché soprattutto per me che gli spiego male i giochi però insomma molto molto carino biblioversum e concludo questa prima rubrichetta sui consigli letterari con un libro che ho letto di recente che si intitola come governare il mondo di tibor fisher pubblicato da marcos i marcos lui è l'autore di della gang del pensiero un libro che ha avuto tantissimo successo sempre pubblicato da marcos i marcos un po di anni fa è un autore inglese divertentissimo io mi sono veramente molto molto divertita leggendolo la storia è quella di un di baxter stone che è un documentarista un regista di documentari però diciamo tibor fisher ha un modo estremamente sarcastico cinico di raccontare la realtà è un libro veramente che mi ha fatto molto ridere quindi ve lo consiglio anche se ha un piglio catastrofico in sé però è veramente un modo bello per per raccontare la realtà tibor fisher come governare il mondo questi sono i miei primi consigli poi proseguiremo con altri intanto arriva proprio correndo così non so perché correndo graham coxon con you and i e giustamente andrea scrive macklemore già dieci anni esatto questo brano usciva nel 2012 treat shop e però sempre il suo da sempre grande soddisfazione danze leccia questo pezzo a me piace un sacco e mi dà la possibilità di introdurre questo secondo blocco di consigli intanto l'audiolibro va nel senso che avete indovinato l'autore avete indovinato la serie ora mi manca solo indovinare il titolo però tra poco vi do l'indizio definitivo l'ultima mossa la mossa fatale allora consigli di lettura cose belle lette nel 2021 allora ne abbiamo già parlato con con gabriella giliberti lo cito quindi velocemente il mostruoso femminile giù d'ellison sedi d'oil pubblicato da lon una disamina di di come la donna viene raccontata all'interno del dei diciamo della narrazione cinematografica televisiva dei fumetti quindi insomma il ruolo della donna anzi di alcuni diciamo modi di vedere la donna in questa narrazione molto molto bello veramente da non perdere assolutamente altro libro ne abbiamo parlato qui si tratta di 30 giorni per capire l'autismo di uovo nero c'è pubblicato da uovo nero le autrici sono tre autrici francesi melanie bab marim baruch e charlene dunan però ne abbiamo parlato qui con enza crivelli che si occupa della diciamo è all'interno della della casa editrice e ce n'ha ce n'ha parlato è un libro molto pratico che può essere letto da ragazzi ma anche da da adulti e che ci aiuta attraverso proprio alcuni esercizi pratici a capire come il mondo viene vissuto da persone che sono nello spettro autistico quindi un modo molto tangibile molto pratico per comprendere il loro mondo e quindi capire anche un po di cosa si tratta sasha naspini anche in questo caso abbiamo parlato qui non c'è anno senza libro di sasha naspini almeno per quanto mi riguarda questo è l'anno della voce di robert wright pubblicato da edizioni eo la storia di un doppiatore il cui personaggio di riferimento l'attore che lui doppia a un certo punto muore all'improvviso suicida e lui si ritrova a dover avere a che fare con questo vuoto all'interno della sua vita lisa morpurgo melissa panarello fa parte della collana mosche bianche giulio perlone editore e melissa panarello che racconta lisa morpurgo che è stata l'astrologa più famosa d'italia è un personaggio meraviglioso e anche un buon modo per approcciarsi in maniera realistica a quella che è l'astrologia che non è appunto una roba da fattucchiere ma è una scienza direi praticamente di quest'altro libro ne avevamo parlato un po di tempo fa si tratta dell'altro mondo di fabio de otto la vita in un pianeta che cambia pubblicato da bonpiani è molto molto bello è una una serie di posti in un viaggio diciamo un reportage fatto da da fabio de otto e in alcuni luoghi dove la il cambiamento climatico è già realtà e quindi lui ci racconta praticamente gli effetti già in atto come direi che possiamo vedere anche da soli visto che è dicembre sì dicembre e gennaio e fanno 17 gradi 18 gradi mi pare evidente che ci sia qualche problema e però insomma lui ce ne parla in maniera molto chiara e con una serie di interviste a persone che vivono in questi luoghi tra l'altro da questi luoghi c'è venezia ma insomma e non solo e in giro per il mondo per comprendere in maniera chiara quello che sta accadendo e anche un po quello che possiamo fare ultimo perché ne abbiamo parlato anche molto di recente qui in diretta lucifero e la bambina ed al mannin pubblicato da al carlaz edizioni un libro pazzesco veramente sorprendente la storia di questa grande amicizia di questo grande incontro fra una bambina e il diavolo che in questo caso è proprio un personaggio da fiaba è un racconto quasi veramente poetico romantico e anche l'occasione per l'etel mannin altro personaggio pazzesco di raccontare diciamo la figura della donna e in particolare cercare di cambiare le regole anche in questo caso di una relazione femminile che vede la donna seguire un certo tipo di acquisire un certo tipo di status comportarsi in un certo modo e in questo caso la strega nuovamente diventa un veicolo di un modello femminile che rompe gli schemi ma che chiaramente è in realtà molto più vicino alla vera diciamo al vero modo di essere delle donne molto molto bello poetico divertente in alcuni casi proprio divertente cioè ci sono le cose che fanno ridere e l'intervista all'editore l'abbiamo fatta la settimana scorsa due settimane fa e forse non è ancora stata pubblicata però pubblicheremo a breve anche quello 351 524 1101 se volete commentare offrire dei vostri consigli o anche solo cercare di indovinare l'audiolibro della settimana avete ancora qualche minuto e nel frattempo ci ascoltiamo un po di Beyoncé che male non fa ascoltiamo un po di